Soddisfazione ed entusiasmo per i giovani del piccolo staff del cortometraggio Specchio, Mirror, vincitori del premio Award Audience del Giffoni Film Festival My Giffoni 2018 per aver ritirato l'ambito premio. La delegazione del liceo artistico dell'istituto Galilei Campailla di Modica, formata dal giovane regista, videomaker Angelo Piccione, dagli attori protagonisti Carmelo Garofolo ed Erika Cicero, accompagnati dalle docenti Rosalinda Di Beneretto, referente per il progetto, e Lucia Cartia, delegata del dirigente scolastico Sergio Carruba, hanno ricevuto il prestigioso premio dalle mani di Maglio Castagna, vice direttore artistico e vero motore ed anima del Giffoni Film Festival, rassegna cinematografica per giovani, giunta alla 48esima edizione, ormai evento di rilevanza planetaria, unico nel suo genere. Doppia gioia per il giovane Angelo Piccione, il quale, oltre ad essere componente dello staff del cortometraggio, vivrà l'esperienza di giurato per la categoria Generator più 16 per tutti i dieci giorni del festival, che vedrà impegnati 5.601 giurati provenienti da tutta Italia e da 52 paesi del mondo. Il cortometraggio Specchio, dall'omonima poesia di Salvatore Quasimodo, di cui ricorre peraltro quest'anno il cinquantesimo anniversario dalla morte, è l'unico a rappresentare giovani talenti ed eccellenze della Sicilia e delle scuole siciliane, essendo l'artistico modicano l'unica istituzione ad aver raggiunto con i suoi alunni tale ambito o traguardo. I giovani e il loro lavoro hanno voluto mettere in primo piano il rispetto di tutta la natura, esseri umani compresi, quindi hanno immaginato di rappresentare il tronco che rifiorisce dopo l'inverno come metafora di un uomo che perse le speranze e la voglia di vivere, subito dopo sente ritornare in sé la gioia di vivere al pari di un tronco che rifiorisce, ovvero come un cielo sereno primaverile dopo il cupo inverno. L'idea di realizzare questo cortometraggio è stata perché dovevamo partecipare ad un altro concorso cinematografico a livello provinciale che si chiama Versi di Luce, il cui tema è Salvatore Quasimodo.